La salita più lunga del Veneto è situata nelle prealpi venete in un'area compresa tra la provincia di Treviso, Vicenza e Belluno. Con la sua altezza di 1775 metri da fondo valle, il Monte Grappa presenta ben 10 salite asfaltate, l'unico monte al mondo ad aver così tanti accessi asfaltati alla stessa cima. Oggi vi parlo della salita numero 1, da Romano Dezzelino a Cimagrappa, la strada. Cadorna, costruita durante la prima guerra mondiale, una lunghezza di 27 chilometri, una pendenza media del 6% e una pendenza massima del 10%. Anche il Giro d'Italia ha scelto più volte questo versante, l'unica strada di 10 accessi che viene pulita anche d'inverno in presenza della neve e quindi praticabile tutto l'anno. Una strada molto larga e quindi anche trafficata da chi vuole salire in auto, moto e anche in bus, quindi bisogna prestare la massima attenzione.